Buonasera e benvenute e benvenuti in Sala Borsa e benvenuti al centro di una iniziativa che vuole ricordare la maestria, la letteratura e l'opera di Pier Vittorio Tondelli a 30 anni dalla scomparsa. Prima di lasciare la parola alle parole di Tondelli vi porto i saluti da parte dell'amministrazione comunale, io sono Elena Di Gioia e sono delegata del sindaco Lepore alla cultura e abbiamo voluto insieme all'associazione Psicatleti e a Enrico Brizzi che ringrazio e ai lettori e le lettrici dell'associazione che adesso sentiremo e avevo, abbiamo voluto organizzare una a due giorni come settore biblioteche patto per la lettura, una a due giorni per ricordarci la figura di Tondelli scomparso appunto 30 anni fa che attraverso romanzi, racconti, testi per il teatro e un'opera anche incredibile che ci veniva ricordata per chi tra voi ha fatto anche la passeggiata iniziata due ore fa da qui davanti, ci veniva ricordata da Enrico Brizzi anche l'opera instancabile con Under 25 con cui Tondelli gettava una lente di supporto, di confronto e dialogo con i giovani scrittori e giovani scrittrici, alcuni dei quali poi hanno anche proseguito il percorso, questo a ricordarci anche dell'importanza del dialogo appunto tra artisti e l'iniziativa proseguirà, adesso lascio subito la parola a loro, proseguirà con un altro appuntamento in cui vi invitiamo sempre qui in Sala Borsa il 15 dicembre alle ore 18 con un'iniziativa promossa da Fondazione Bottega Finzioni e ci saranno alcune figure che hanno conosciuto Tondelli, che hanno conosciuto l'opera di Tondelli e che saranno in dialogo appunto tra racconti e letture, da Roberto Grandi che aveva animato il Dams anche di quegli anni, Andrea Adriatico regista teatrale cinematografico che ha lavorato in particolare su biglietti da camere separate e da camere separate che è un'opera di di Tondelli, ci sarà Maurizio Marinelli, editore di Baskerville, Marco Zanardi, il parrucchiere da cui siamo passati anche prima con la passeggiata e che fu un luogo, un crocevia proprio dei decenni scorsi creativo di questa città e che Tondelli definì un luogo dalla fauna galattica, ci sarà Paterlini e tanti altri insomma raccontare ancora l'opera così presente di Tondelli. Chiudo dicendo per chi ha fatto la passeggiata e chi la proseguirà adesso con le letture che è molto bello pensare alle città come luoghi che assorbono la letteratura, assorbono la voce degli artisti e che la possono restituire e condividere. Quindi grazie e ci mettiamo in ascolto. Grazie. Buonasera, ringrazio chi ha preso parte alla passeggiata urbana che si è appena conclusa chiudendo il nostro anello per il centro di Bologna partita e rientrata proprio qui di fronte alla sala borsa, ringrazio naturalmente il comune di Bologna per l'appoggio e ringrazio il nostro ospite di questo atto conclusivo del nostro pomeriggio dedicato a Tondelli, cioè Alberto, Bebo, Guidetti, dello Stato sociale. Se, dicevo prima, siamo qui a celebrare e a cercare di dare voce alle parole di Pier Vittorio Tondelli a trent'anni dalla sua scomparsa perché evidentemente la sua semina è stata buona, la sua opera è stata fertile e la presenza di tanti ragazzi giovani che erano bambini o non erano addirittura neppure nati quando Tondelli pubblicava è forse la prova inequivocabile del fatto che lui sia rimasto e mi permetto di dire che rimarrà ancora molto a lungo. La categoria che abbiamo evocato in partenza di questa passeggiata è stata quella di generosità che è forse la prima qualità che mi viene in mente pensando a Pier Vittorio Tondelli, generosità come narratore, generosità nel sapersi mettere in gioco raccontando ogni volta storie diverse, nel saper scrivere un libro che non è una raccolta di racconti, non è un romanzo, è più che altro forse un romanzo per episodi, un mosaico di storie come altri libertini e subito dopo un libro completamente diverso su un'esperienza che oggi sembra sprofondata nel passato e che invece era un'esperienza iniziatica affrontata più o meno volentieri o più o meno malvolentieri da tutti i giovani cittadini maschi come servizio militare e penso a Pao Pao per poi passare e mi ho detto soltanto ai libri usciti in libreria Coran Populo perché ci sono state anche uscite molto più sotterranee come quella dei biglietti agli amici per passare a un romanzo pop come Rimini e arrivare a Camere Separate che è probabilmente un'opera a prescindere dalla sua biografia, a prescindere dal fatto che sia uscito poco prima che Tondelli lasciasse questo mondo, è l'opera di uno scrittore maturo perché è capace di pietà, di medesimazione, di guardare da fuori quelle che sono le passioni che quando siamo ragazzi ci animano, ci fanno sentire furibondi, ci fanno sentire sublimi, ci fanno sentire l'ultima ruota del carro, beh crescendo queste passioni riusciamo a guardarle da fuori e riusciamo a guardare da fuori anche gli altri che non significa soffrire meno o sentire meno ma semplicemente avere uno sguardo più aperto. La nostra intenzione però non è quella di fare un convegno, quindi taglio corto perché e la seconda accezione del termine generosità a cui mi riferivo è una generosità che esce dalla pagina, che non ha più a che fare direttamente con il suo racconto ma ha a che fare con il suo essersi messo al servizio dei narratori che non avevano ancora voce, dei giovani che volevano provare a scrivere. L'impresa di Under 25 che poi ha dato vita a tre antologie uscite per la casa editrice, il lavoro editoriale Trans Europa, la doppia sigla della medesima casa editrice nel corso della seconda metà degli anni 80, è stata preceduta da una chiamata alle armi, Tondelli collaborava con diverse riviste, in particolare penso a Linus e a Rockstar e lui con molto pudore nel rivolgere ai ragazzi sotto i 25 anni, ovvero più giovani di come era stato lui quando aveva pubblicato il suo testo d'esordio a altri libertini e invitandoli a mandare i propri racconti, si rivolge a loro usando un vocativo che è quello di scarti, scarti nel senso di entità scartate fuori dal canone perché all'epoca pubblicare così giovani era assolutamente dai regolari, scarti perché li invitava a farsi avanti scarti anche se erano totalmente rimasti fino a quel momento al di fuori delle dinamiche editoriali, ma scarti anche non solo nel senso residuale, scarti anche nel senso di chi sa produrre uno scarto rispetto alla norma e quindi nella sua differenza, nella sua diversità sa dare un senso nuovo alle cose. A questo primo articolo, scarti appunto, segue uno scarti alla riscossa che è pieno di indicazioni pratiche. Cosa deve fare un ragazzo per mettersi a scrivere? Ecco, prima di lasciare la parola a Bebo, poi a Sara e a Elena, prima con altri libertini e poi con camere separate, volevo leggere quelle che erano le sue indicazioni, i suoi consigli, i consigli che Tondelli dà ai giovani aspiranti narratori, perché credo che la loro validità non sia scaduta tra il 1985 e oggi, ma anzi siano consigli attualissimi. Ecco alcune indicazioni, come per un tema in classe. Scrivete non di ogni cosa che volete, ma di quello che fate. Astenetevi dai giudizi sul mondo in generale. Ci sono già i filosofi, i politologi, gli scienziati. Piuttosto raccontate storie che si possano oralmente riassumere in cinque minuti. Raccontate i vostri viaggi, le persone che avete incontrato all'estero. Descrivete di chi vi siete innamorati. Immaginatevi un lieto fine o una conclusione tragica. Non fate piagnistei sulla vostra condizione e la famiglia e la scuola e i professori, ma provatevi a farli diventare dei personaggi e quindi a farli esprimere con dialoghi, tic, modi di dire. Descrivete la vostra città. Esercitatevi a fare degli schizzi descrittivi su quel che vedete dalla finestra, dall'autobus, dall'automobile. Raccontate le vostre angosce senza reticenze piccolo-borghesi, anzi, spandendo il sale sulla ferita. Dite quello che non va e quello che sognate attraverso la creazione di un io narrante che non deve, per forza di cose, essere in tutto e per tutto simile a voi. iniziate a fingere, a dire bugie, a creare sulla carta qualcosa che parta dal vostro mondo, ma che diventi poi il mondo di tutti, nel senso che tutti noi che leggiamo possiamo comprenderlo. Fate racconti brevi, ricordando che il racconto è il miglior tempo della scrittura emotiva e parlata. Fate esercizi di questo genere. Descrivere un fatto in una pagina, senza l'uso della punteggiatura. Poi lo stesso fatto in un'altra paginetta, solo attraverso il dialogo. Poi ancora la stessa cosa, come se fosse successa cento anni fa e la raccontaste da un'astronave. Raccontate di voi, dei vostri amici, delle vostre stanze, degli zaini, dell'università, delle aule scolastiche. Ricordate che quando vi mettete a scrivere, state facendo i conti con un linguaggio fluido e magmatico che dovrete adattare alla vostra storia senza incorrere nello stile caramelloso della pubblicità o in quello patetico del fumettone. Il modo più semplice è scrivere come si parla e questo è già in sé un fatto nuovo, poiché la lingua cambia continuamente, ma non è il più facile. Non abbiate paura di buttare via. Riscrivete ogni pagina finché siete soddisfatti. Vi accorgerete che ogni parola può essere sostituita con un'altra. Allora, scegliendo, lavorando, riscrivendo, tagliando, sarete già in pieno romanzo. Prego Bebo. Buonasera. In un periodo storico come questo, in cui cerchiamo anche con le parole di ridisegnare le sensibilità, vorrei chiedervi un esercizio fondamentale per lo stare insieme, cioè la comprensione, perché in Autobahn ci sono parolacce e bestemmie. Lacrime, lacrime, non ce n'è mai abbastanza quando viene su la scoglionatura. Inutile dire cuore mio spaccati a mezzo come un uovo e manda via il vischioso male. Quando ti prende lei, la bestia, non c'è da fare proprio nulla, solo stare ad aspettare un giorno appresso all'altro e quando viene comincia ad attaccarti la bassa pancia, quindi sale sullo stomaco e lo agita in un tremolio di frullatore e dopo diventa ansia, che è come un sospiro trattenuto che dice vengo su e poi non viene mai. E Laura diceva, mi ricordo, che questo faceva male a me, davvero molto male, come ti si ringassero da dentro le budella e le graffettassero e punzecchiassero, insomma, tanti scorpioncini appesi al tubo digerente, così che poi dovevi per guarire cercare un disinfestatore che ti imponesse i fluidi. Magari girando mezza Italia e trovato lo fare poi sala d'attesa in compagnia di melanconici stultiferi, bilatici, neurobiotici ed altri disperati con artrosi a ciacchi d'ossa, persino invasamento del maligno. E l'angelo, anche ciò mi rammento e ve lo passo, questa scoglionatura che da su al neuro duro la chiama scoramenti con l'S maiuscola al plurale, perché quando arriva non viene mai in solitudine, si porta presso nel vargie d'ossa, brufoletti sulle labbra o nel fondo schiela. Ma poi i più gravi mali, quelli della vocina che dice, ciao, chi sei? Cosa fai? Dove vai? Qual è il tuo posto nel gran troiaio? E poi ancora quelli più deleteri, i mali del non so giammai né perché venni al mondo né cosa sia il mondo né cosa io stesso mi sia e quando. Sono proprio gravi. E persino il non so quale sia il mio sesso né il corpo né la cacca mia. Cioè i disturbi dubitativi della decadenza. E contagia, ostia, si contagia. Casa mia, divenuta tante volte ospedaletto sul mio lettuccio, Chiara guardava l'aquilone del soffitto e ruttava invece che parlare. Ma ho capito quei rutti e ho tradotto per voi. Non ho, caro mio, nessun progetto di me, men che meno realizzazione libidica o razionale. E poi Maria Giulia, sempre in cameretta mia con il suo contagio, si contava i riccioli e boccheggiava e vedevo che malediceva quel fulmine a ciel sereno che era caduto addosso a lei, che non se lo aspettava proprio che arrivasse. Ma una volta giunto, come di già detto, fatica boia. Ma tanta, tanta a cacciarlo via il fulmine. Insomma, saputo quel che vi era dovuto, lettori e amici miei, vi passo a fare il menastore di una sera come tante, con sulle belve degli scoramenti, che a rimanere fermo non ci riesco trenta secondi d'orologio. Mi sento un passerotto che ha perduto il nido. Faccio un bar dietro l'altro e un beveraggio appresso all'altro, perché il vino è farmaco dei mali e credete a me. Questa è l'unica risposta che al mondo c'è. In tale stato di coscienza, bevute dunque sette vodka a credito dall'Armando, lavati dieci tavoli e consegnati i cappuccini al ragioniere d'ufficio sopra il bar come baratto, ingoiati poi due pinotri veneto, due albane in compagnia del simposio dell'ostereria e sbausciate, infine due birrette da 300 lire dall'araldo. Cioè, entra il vino, strapazza il dolore, produci calore, sciogli l'uovo del mio cuore, fammi, infine, vomitare e cacciare lontano il mio gran male. Dopo, messo in 500, mi dico, così di certo passerà. Però di soldi mica ne tenevo tanti nel portafogli. Fortuna era che ci si stava la benzina, almeno, per scorrazzare un paio d'ore. Cioè, la lancettina diceva due quarti e traballava ballerina più verso i quattro quarti che la barretta opposta. Ma dentro non ci capivo proprio niente di quel che succedeva. Che gran baccano che avevo. Come una fiera di paese, anco coi mangiafuochi che sputavano fiammelle spiritate e gli elefanti d'India che saltavano sui trespoli e tutto un tremolio di saltimbanchi e colbuttisti, trapezisti, funambolici, giocolieri, persino bertuccetti, orangitangi, mai fermi, porco Dio, cinque minuti. Bestemmiata la malattia. Ostia, se la bestemmio sulla mia 500 bianca come latte a scappottata ora che è primavera, o almeno sembra, cioè una bella retta fresca di marzo, pazzarello, che gira come un fringuelletto tra le mie gambe e petto ed esce poi da dove è entrata, cioè il tettuccio. Così metto una marcia più forte dell'altra e pesto l'acceleratore come la tavoletta della batteria e infatti ci canto sopra un bel regge di quelli sdiavolati, vado forte sulla strada, scanso i gatti e i topi della campagna, le ranocchie dei fossati, sempre forte, bella la guida, neanche la paura e scalare che goduria. Sembra di stare a far cazzotti col motore, coi pistoni, alle biellette e anche agli stronzi porci che mi incrociano con gli abbaglianti sparati sui miei denti che gli si secchino le palle accidenti. Poi d'un tratto, fiutato nel marzo pazzarello, un buon odore, allargati i polmoni, litri e litri di buon odore dentro. Ah, che gioia! Ho ritrovato il buon profumo selvatico e libero e non lo farò scappare. Accidenti a te il respiro mio che non ti riesce di trattenerlo dentro un po' di più questo odorino, ma fatti forza, allarga il naso, sì l'hai ritrovato, esulta, impreca, l'inseguimento e via! Però mentre io sul mio ronzino scappottato sono lanciato all'inseguimento, dovete sapere alcune chiacchiere e portare un poco pazienza, tipo accendervi una sigaretta se avete il vizio, bere una coca cola o dare un bacio alla vostra compagna se siete in compagnia o se siete soli, beh cazzi vostri, io non la vorrei proprio, ma se è così è così e non menatevela tanto. Quindi passo a dirvi le menate che vi devo, cioè che al tempo degli scoramenti io abitavo a Correggio, Reggio Emilia, ma non è detto che ora che abito in altro locco non abbia più gli scoramenti, ma in quel tempo erano davvero frequenti, fulmini a ciel sereno. Correggio sta a cinque chilometri dall'inizio dell'autobrenner di Carpi, in virgola, Modena, che è l'autobahn più meravigliosa che c'è, perché se ti metti lì su e i soldi e tempo in una giornata intera, o forse anche meno, esci sul mare del nord, diciamo Amsterdam, tutto senza fare una sola curva, entri a Carpi, boh, ed esci lassù. Io ci sono affezionato a questo rullo di asfalto, perché quando vedo le lucine al casello d'ingresso, luci proprio da gran teatro, colorate, montate sul proscenio di ferri lucicanti, con tutte le cabine ordinate e pulite che ti fanno sentire bene, anche solo spiarle dalla provinciale. Beh insomma, quando le guardo mi succede una gran bella cosa, cioè non mi sento prigioniero di casa mia italiana, che odio. Odio alla follia tanto che quando avrò tempo e soldi me ne andrò in America, ma da tutta altra parte si intende, però è sempre andare via. Ma ci sono notti, o pomeriggi, o albi, o anche tramonti, anche quando dovete imparare che succede il gran miracolo, cioè arriva su quel rullo, l'odore del mare del nord, che spazza le strade, le campagne, e quando arrivi senti proprio la salsedine delle burrasche dell'oceano e persino il rauco gridolino dei gabbiani e lo sferragliare dei docks e dei cantieri e anche il puzzo sottile delle alghe che la marea ha gettato sugli scogli. Insomma, ti arriva di infilato lungo questo corridoio l'odore del gran mare, dei viaggi, l'odore che sento addosso come un prodigio e che sto inseguendo sulla mia ronzinante 500 con sugli scoramenti e dentro tanto vino, in bocca tanta voglia di gridare. Sono sulla strada, amico, sono partito, ho il mio odore, a litri, a litri nei polmoni, ho fra i denti la salsedine, in testa la libertà. Sono partito, al massimo lancio il motore, avanti, attraverso il po', dentro ai tunnel del Brennero, niente frontiere, per carità, non mi fermo, non mi fermo, verso Innsbruck, forte, poi uno, e poi Stuttgart, e poi Karlsruhe, e poi Mannheim, una collina dietro l'altra, da un su e giù e l'altro, spicca il volo, macchina mia, vola, vola, Frankfurt, Coln, forza dai, ronzino mio, ormai ci siamo, fuori Arnheim, fuori Utrecht, ci siamo, ci siamo, Ostia, se ci siamo, senti il mare, Amsterdam, Amsterdam, sono partito, chi mi fermerà più? Grazie Bebo, tra poco lo riascolteremo, però continuiamo, approfittiamo dell'ospitalità di Sala Borsa per continuare il ping pong tra i due testi collocati alle parti opposte, all'inizio e alla fine del decennio degli 80, e quindi chiederei ora a Sara di leggere un brano da camere separate. Il paese è un piccolo borgo della bassa padana, con i portici, l'acciottolato sul corso principale, la basilica dedicata al patrono, il palazzo rinascimentale, le torri, i campanili, la rocca, le vecchie case ottocentesche del centro, alcuni palazzi le 700, la struttura urbana rimasta intatta e raccolta attorno al circolo delle vecchie case scomparse le mura. Lui è nato qui in una vecchia e grande casa che ancora si affaccia sulla piazza principale, ancora per poco, è già stata sgomberata, gli inquilini se ne sono andati, i negozianti hanno lasciato le botteghe, il barbiere è l'unico rimasto. Fra poco inizierà la demolizione per dotare il paese di un altro edificio senza storia e senza stile, ripieno di mono bilocali, di soffitti bassi, di finestre anonime, dall'intonacatura postmodern con rosa salmone o verde acqua, ma lui non si scandalizza. I suoi genitori la penserebbero nello stesso modo. Solo i prigionieri hanno bisogno di spazio e lui, che vive nelle città, conserverebbe tutto con una devozione sacra per il passato. Si stupisce, ad esempio, di come un piccolo tempio devozionale, probabilmente ottocentesco, che è rimasto intatto sulla statale a pochi metri dalla casa in cui è nato, sia lasciato nel più assoluto abbandono. Da bambino la nonna portava Leo davanti a questa chiesetta prendendolo in braccio per mostrargli l'altare che stava dentro. Il quadro raffigurante la Madonna, i vasi di fiori. Per molti c'è un albero che scandisce il divenire, l'accrescimento e l'avanzare degli anni. Molti ricordano che quell'abete, alto una ventina di metri, è stato piantato dal padre quando erano piccoli e anche Leo ricorda di averlo interrato, come più o più altissimi, davanti all'edificio delle scuole medi in una giornata di ottobre dedicata agli alberi. Ma vedendo quel filare di Pioppi non prova nessuna emozione. Quando invece passa davanti al piccolo tempio sulla strada, lui si ricorda di quando era piccolo, di quando si doveva arrampicare sulla grata di ferro per vedere dentro. Ora può scorgere nell'interno gettando semplicemente un'occhiata. È cresciuto e il tempio è diventato più piccolo, più raccolto e dai contorni più netti. Forse è anche più solo, ma rimane per lui l'unità di misura del tempo. Arrivando a casa lascia la macchina lungo il via l'alberato, a poche decine di metri dall'edicola sacra, e scopre che vi hanno accostato due cassonetti di metallo per la spazzatura e che un lato è ricoperto di avvisi pubblicitari. Allora capisce che il suo senso di conservazione della realtà, o di quella che ha conosciuto, o di quello che ha amato, è molto diverso dalla sensibilità degli altri. È sicuro che se chiedesse alle migliaia di suoi concittadini, dove si trovi un certo tempio, costruito in un certo modo, con una particolare riproduzione sacra all'interno, e quei fiori e quella grata arrugginita con le iniziali di Maria Vergine, nessuno saprebbe indicarglielo. Forse nemmeno sua madre. Capisce che il modo in cui lui è in grado di guardare il paese in cui è nato è profondamente diverso da quello degli altri. Il suo è uno sguardo affettivo dotato di memoria, temprato dalla lontananza e dalla separazione. Quando scomparirà la casa in cui è nato? Quando il tempietto davanti al quale si arrampicava verrà abbattuto? Quando non ci saranno più le stesse pietre? Non morirà solamente il ricordo delle persone che ha amato nella sua infanzia, ma lui stesso morirà. La generazione successiva nulla saprà di questi piccoli uomini che hanno attraversato il divenire, di gente che non lascerà traccia, di cui nessuno si ricorderà mai più. Gente umile, anonima, ma alla quale lui è stato in braccio e che l'hanno in un certo senso contenuto, come contengono tutto il futuro. Quando anche il tempietto andrà in rovina, come effettivamente sta andando, si troverà ancora più solo. E il paese, senza assolutamente accorgersene, perderà un piccolo, infinitesimale frammento in più di sensibilità. Dalla parte opposta alla casa in cui ora abitano i suoi genitori, proprio di fronte a quella in cui lui è nato e che ha lasciato insieme la famiglia più di 25 anni fa, c'è il cimitero. In fondo al viale, a un paio di chilometri di distanza, la strada compie una larga curva mettendo su una nuova tangenziale. Lì sta il cimitero, accanto alla torre dell'acquedotto municipale. Per quanto lui viaggia attraverso il mondo, per quante case possa aver abitato o abiterà da una parte all'altra del continente, tutta la sua vita sarà contenuta in questo budello che va dalla casa in cui è nato al Camposanto. Un paio di chilometri che percorrerà come le manifestazioni di una via della croce, quella dell'incarnazione e della sofferenza. Da qui a là è un gesto mentale che lui ora ripete guardando in fondo al viale e ritornando con gli occhi sulla finestra che gli ha aperto il primo panorama della sua vita. Da qui a là è tutta intera la sua vita. Grazie Sara. Riprendo Autobahn. Volevo chiedere agli amici Andrea e Nicolò se vogliono venire a condividere con me questo pezzo. Sì, non siate timidi. Prego. Così me ne corro e quanti di pensieri che tengo nella mia crapa o piuttosto pensieri di stomaco. La testa ronza solamente come il monoscopio della tv. Nella pancia invece è lì che ci tengo tutti i miei fumamenti come bussolotti dell'otto. Dite un numero, vi guardo dentro che pensiero ci sta. Ma continuo a volare e dovete sapere che fatti dieci chilometri, fatti venti, comincia a stringermi la vescica in mezzo alle gambe. Tengo duro, codio, io ci ho fatto un patto di non fermarmi questa notte di libertà perché so che se mi fermo poi vien su la malinconia del viaggiatore e faccio il gran filosofo. Dico vado, non vado, torno, non torno e non è proprio bello a questo punto menare le cazzate. Fatti altri chilometri passo quindi sopra al flumen po. tutto luccicante nella notte che sembra la stagnola di un presepio che fa il ruscelletto e poi finisce nello specchietto della mamma vicino alla grotta a far da laghetto. Io e mio fratellino grande ci mettevamo le ocche. Mio cugino invece ci faceva la pipì da sopra una sedia e diceva piove, piove sul laghetto. Passato il po' tanta pipì che ingrosserei il delta e le valli di Comacchio se dovessi scaricarmi da quassù. Così mi costringo e faccio sosta in una piazzola, ma non per far pipì, quanto piuttosto bisogno di un fernet. Se no gli scoramenti, quelle fiere, tornano a saltar fuori. Bisogna sempre tenerli caldi caldi che scottino. Se li fate raffreddare sarà tutto un umor di novembre, tetro e nuvoloso. E allora me lo scrivete poi voi, una cartolina dall'asilo degli sballinati. All'area di servizio po' parcheggio la mia 500, ma prima di scappare giù a cambiare acqua al merlo mi conto i soldi in tasca. Magari mi sono sbagliato e ci ho più grano di quel che ho contato l'ultima volta, insomma mille lire in più per un panino. Niente, porca la miseria, solo monetaccia spicciolata, 850 lire e 10 dracme. Ma quelle mica le posso spendere, che sono un regalo di un amico mio. Raggiungo dunque il posto per lo scaricamento che non ne posso proprio più. Dopo, che pisciata, a gambe larghe e chiappe strette, una mano dura sulle piastrellette di formica alato e la testa china a guardare il prodigio fumante. Che fumata lettori miei. Poi saltellando qua e per la piazzola di sosta, mi trovo a svicolare nel baretto solitario e mi metto al banco dicendo, Fernet, uno tutto secco e allampanato che pare bella lugosi, dice lo scontrino ce l'hai? E io lo guardo e dico, no, però versami il Fernet che poi lo faccio. Ma quello niente, sta lì a guardare fisso fisso, che sembra proprio l'uomo lupo e attende la fattura così che dopo mi volto e vado alla cassa, però non c'è nessuno seduto lì dietro. Torno a voltarmi con un gran sorriso come dire, bella lugosi, che faccio ora? Ma lui non sta più lì, per cui guardo in alto e in basso alla ricerca del pipistrellone e dopo me lo vedo alla cassa seduto che fa tic tac come alla macchina per scrivere e infine ding il talloncino. Lo prendo e vado al banco e dico, Fernet, please, davanti allo specchio, tanto so che il giochettino bella lugosi prima o poi arriverà. Però altri che sono entrati non capiscono bene me che parlo a nessuno dicendo, Fernet, please, che sembra un disco, e mi guardano un po' storti come dire, c'ha le rotelle ammaccate, povero diavolo, e dopo vanno a destra del bancone e li mangiano e bevono e si ristorano perché da quell'altra parte c'è bella lugosi che li serve calmo e placido al passaggio e non mi caga a me neanche un po' come non ci avessi il talloncino, tanto che io mi incazzo e grido brutto cancro uccellone di un bella lugosi, dammi da bere che sennò ti pianto un palo nella gola e la finisci di fare il lupacchione. Dopo tanta attesa arriva il beveraggio, taccagno, per 500 lire me ne verso un goccino che sembra una caramella al Fernet, allora se lo sapevo facevo prima comprare le caramelle e spaccarmi le in boccucce come vini, di certo risparmiavo, ah se risparmiavo, alla brutta faccia vostra, taccagni dell'autostrada più bella che ci sta. Quindi, mentre il mio volto è infumanato, ho una visione, strabuzzo gli occhi, poi metto su anche gli occhiali che tenevo in 500, infatti uscito e poi tornato. Lei stava sempre lì, che guardava col sorriso, che bella bambina, ci avrà se no 15 anni, però è bella e si vede che mi guarda bene lì davanti al bancone di taccagni. Prendo la mia mano nell'altra e dico, beh, lei mette la sua manina e dice, beh, anche lei. Dopo fatta così conoscenza corriamo fuori, andiamo dietro il casotto che c'è anche un lampione, sempre dicendo, beh, come due pecorine innamorate. Le do un bacio? Daglielo, daglielo, dice dentro la vocina, così glielo do. Ma quanto coraggio ci ha voluto. Poi anche lei mi bacia sulla fronte, tira via col dito i capelli perché li tengo lunghi, non sta bene per una bambina baciare i capelli di un giovanotto. Succhiamo, succhiamo, lei la fronte, io la guancia, così timidini tutti e due, che voi lettori furbacchioni, non ve lo sareste mai aspettato da un duro come me. Invece facciamo proprio così, dietro il casotto e vicino il lampione, che ora si è spento, però c'è la luna che tiene compagnia, una gran bella luna, capitale a solfa del bella lugosi, poi lei dice che io le racconto la mia storia. E io chiedo, ti fa piacere davvero? Dice di sì. Allora comincia a raccontare, ma quante balle che le dico, tutte fregnacce, io sono questo qui, io faccio questo qua, tutte menate, voi che lo sapete sono un povero diavolo con i suoi scoramenti. Ma lei spalanca la boccuccia e dice, oh, a ogni mia fandonia. E quante che ne racconto, sono ricco, sono famoso, sono scrittore, ah, quante che ne dicono, stanno in cielo, non in terra e mancano il mio mare. Il mare, il mare, io non posso fermarmi qui, ho il mio odore da seguire, devo correre, l'autostrada mi aspetta, non so tempo, cara mia. E qui svanisce la visione. E lei diventa sempre lei, però io capisco il trucco. Te ti hai mandato i correggesi per fermarmi, vattene via, stregaccia bella che fai finta di credere alle mie balle. Ora ti ho capito l'inganno, vattene via. Corro il mio ronzinante, salto dentro la capota, metto la prima e parto forte senza nemmeno salutarla. Lasciato sull'erbetta inglese del retrocasotto o sul pullover i bottoncini rosa in aria. Così impara a voler fermare il mio viaggio. Vai. Però, mentre corro di nuovo sulla strada, la boccina dentro dice, facevi bene a fermarti quella bellina. Dove vai? Chi sei? Piantala, pianta, la boccina del cazzo. Coscienza inquieta dei miei stivali sdrucciti. Fanculo te, che se non taci ti porto dritta dritta da uno junghiano e poi me la racconti se la parli lunga e distesa sul sofà. Tante minacce. La boccina tace e s'assopisce nella cuccia, finalmente. Canto una canzone e mi faccio da me l'accompagnamento come qualche pagina indietro, battendo i piedi e le mani sul ferro della capote. Scappocchiata e, insomma, vedi in alto le stelle e, dopo, fatti altri chilometri, anche delle ombre nere. A un più attento esame rivelatesi le montagne sopra Verona. Goditi dunque, occhio mio, il Remingar con tanto di stelle. Goditi queste montagne che paiono ostrichioni arribaltati. Goditi il canto del ronzinante, dei pistoni e dei cilindri. Il traballio lucente e mercuriato dell'Adige. Ora, a sinistra, dopo un ponte, un'ansa e a destra. Ma dritto l'asfalto. Ah, chi ci fermerà? Alla faccia del cazzo della mia visione, brutta fatina che volevi arrestarmi. Alla faccia vostra, vado finché ho benzina, vado. Porci scoramenti che bollite in pancia. Ora vi centra il fugo dal muscoletto mio. Fuori, fuori, che sto correndo addosso alla mia felicità. Però son costretto a fermarmi di nuovo, che il ronvinante fa sput, sput. Ehi, ehi, carcassetta mia, non abbandonarmi proprio ora. Altri chilometri, altra strada. Tanto non c'ho soldi. Damn, damn, vai finché puoi. Dopo, fermato. Sua madre lo sta salutando dal balcone. Lo ha visto immobile, in mezzo alla strada, e lo ha chiamato con quella voce acuta, di giovane contadina, che ha mantenuto intatta attraverso i decenni. È rimasta quella ragazza che gridava fra i campi, che chiamava le sorelle fra una camera e l'altra, dalla grande casa colonica in cui era nata. E anche queste altre donne, quando si ritrovano insieme, riproducono i gesti e il chiasso che probabilmente era loro abituale in quegli anni lontani di vita in comune. Quattro sorelle, separate dai matrimoni e dalle diverse città in cui le ha condotte la vita, che si ritrovano in piccoli appartamenti, urlando da una stanza all'altra come se fossero ancora in campagna. Quando si riuniscono, in camera da letto prima della messa della domenica, e fanno il turno davanti alla specchiera, e si profumano e si aggiustano reciprocamente gli abiti, i fiocchi delle camicette, i foulard, parlando concettatamente di tutti, di chi si è costruito una casa, di chi è morto, di chi ha tradito la moglie, di chi è stato eletto in consiglio comunale, dei treni e degli autobus, della vendemmia e dei nipoti, lui le guarda con venerazione, in piedi, in un angolo e con complicità. Vorrebbe essere invisibile, per poterli osservare meglio. Vorrebbe registrare, come qualche volta nascostamente ha fatto, il loro intrecciarsi di chiacchiere, quei modi di dire, quei gridolini, quelle imprecazioni, quegli sbuffi, quei segni di croce che ognuna esegue, sveltamente come scongiuro. Vede riprodursi in loro i rapporti girarchici, nota le coalizioni fra le due più giovani e le due più anziane, o le improvvise alleanze che vedono una sorella isolata contro le altre tre, e tutto in un vortice di tacchi, pellicce, naftalina, cipria, orecchini, fondotinta, che a 60 anni e nessuna di loro ha ancora imparato a stendere, scusatemi, ancora imparato a stendere e non ci vedo più, correttamente sulle guance, scusatemi, esagerando sempre un po', e tutte urlano e gridano parlando in un dialetto veloce e stridulo. Ognuna vuole sopraffare le altre con il risultato di un chiacchiericcio, fatto di gesti, piccole corse da una parte all'altra della stanza, risse davanti alle specchiere, improvvisi mutismi, una baruffa, insomma, come probabilmente doveva accadere sull'aia della loro casa la domenica mattina, prima di salire sul calesse per recarsi alla messa nella chiesa del paese. E quando lui le vede uscire, una in fila all'altra, e ognuna chiude e richiude le porte dell'appartamento, in tutto uno sbattere di usci e finestre e verande, poiché ognuna è come se non si fidasse di quello che hanno fatto l'altra, e quindi riapre e richiude con un bel ghigno di soddisfazione ripicca, lui, incolonnandosi alla fine, un po' curvo e silenzioso, ha come la prova che la forza della gente e della sua terra non è quella dei maschi, ma quella delle donne. Vede queste signore, ultra sessantenni, con la vitalità di ragazzine, le ha viste seppellire i mariti e resistere al tempo, mai e poi mai ammalate in un ospedale, sempre pronte invece a assistere ai loro maschi ricoverati a causa delle meschinità, dei loro corpi malandati. Quando immagina sua madre passeggiare lungo i portici del paese, avvolta nella sua pelliccia buona, con gli orecchini d'oro della nonna e quegli strati di fondotinta e cipria, sempre un po' eccessivi, o quando la sente elevare in chiesa i suoi amen, come se fosse ancora sullaia della sua infanzia, ha un attimo di terrore. Prega che non faccia ingresso una gallina al centro della navata, o che un fagiano non attraversi il corso principale, perché allora la vedrebbe gettare la pelliccia, alzarsi la gonna, gettare le scarpe ortopediche e rincorrere il pollo fra la gente, gridando e battendo le mani fino a catturarlo, e una volta acciuffato, torcergli con un gran sorriso il collo, spezzargli la colonna vertebrale con un colpo secco alla testa, e tornare poi in mezzo alla gente, sulla piazza o nella chiesa, mostrando orgoglioso e fiera il suo trofeo. Quando incontra sua madre in mezzo ad altra gente, lui ha sempre questo terrore, e si guarda intorno ansiosamente e ossessivamente, per vedere se una povera gallina non abbia la sventura di capitare da quelle parti, perché nonostante gli anni lui vede ancora sua madre come una giovane ed esuberante contadina, e quando la immagina, lontano migliaia e migliaia di chilometri, cercando di attingerne l'idea, lui la descrive a se stesso, per ricordarla, sempre con queste parole, come un'eterna, povera e bellissima ebrea. Ora lei viene e incontra lui davanti all'ascensore, si affretta a prendergli i bagagli prima ancora di salutarlo, lui l'ha lontana seccato, ci penso io mamma. Entrano in casa, è buio, solo la luce azzurria del televisore rischiara la sala. Suo padre è allungato in poltrona e manovra il telecomando alla ricerca continua di polizieschi e di telefilm. Si salutano impacciati con quella estraneità che produce la comune consapevolezza delle loro vite differenti. Il padre si alza e accende la luce, lui lo ferma, non lo vuole disturbare. In cucina, a un lato del tavolo, è apparecchiato con una piccola tovaglia pulita. C'è una bottiglia di lamburusco da stappare e una ciotola di insalata. Sua madre scalda la bistecchiera. Entrambi si scrutano senza parlare, mentre risuonano gli spari e lo stridore delle auto della polizia e dei telefilm. Lui si passa una mano fra i capelli, chiedendosi se sua madre lo stia trovando molto più calvo dell'ultima volta. Poi nota che lei si aggiusta la gonna, tirandola sui fianchi con un gesto svelto e fintamente distratto. Forse si sta chiedendo se Leo ha notato che è ingrassata. Nello stesso istante entrambi alzano gli occhi l'uno verso l'altro e si chiedono, come va? Subito Leo aggiunge, non ho molta fame mamma. Poi si pente, perché ora scatenerà la reazione di sua madre su tutte le porcherie che si cucinano in giro per il mondo e che lui si mangerà nei ristoranti, per non parlare poi di quell'insulto, di quel sacrilegio, che è la cucina cinese. Gli ho visti io quei cinesi, indita da tuo padre, un pesce bollito e un chilo di riso, tutto insieme, cotto insieme, interiora, sangue, cipolla, rosmarino, tutto in un pentolone, come ai tempi di guerra, e poi tutti a prenderne con le mani. E te vai pure al ristorante, vai. Lui sorride, perché in realtà quello che non digerisce più è proprio la cucina di sua madre, i cibi della sua terra. Ma non lo dice, si versa un bicchiere di vino e lo beve in un fiato. Di questo vino, fresco e sensibile, avrà sempre invece nostalgia. Con le prossime pagine si chiude il viaggio di Autobahn. Stavolta la piazzola si chiama Area di Servizio Fiume Adige. Ne ho fatta di strada. Il beveraggio è terminato. In folle arrivo dentro appena a 20 metri, mica tanti di più. Infatti raggiungo a piedi l'autogrill, lei, la mia bianchina, la lascio lontana. C'è notte fredde e buia attorno al posto di ristoro e qualche sagoma scura di tir e qualche Mercedes di Bon Deutsch e qualche bicicletta di lavoratori, penso io. Mi siedo sul gradino di cemento e faccio rollare una sigaretta col Samsung. Che farò ora? Dopo si accende un lungo albero di Natale nel bel mezzo del buio e fa un gran rombo. C'è tutto un filo di belle lampadine colorate e quando si illuminano io capisco che è il bestione del tir che se ne va e il babbetto Natale che sta nella cabina lassù in alto mi saluta col bracione da Popeye perché io agito la mano e canto in mezzo alla piazzola. Bello albero di Natale, beato te che te ne vai verso il nord, ah se gliel'avessi un bestione così sempre in giro a zigzagare altro che bello che sei con tutte le luci, vai vai corri finché puoi. E lui parte e io gli corro dietro festoso e sbracciato che quando gli son vicino mi sgasa in faccia tanto che poi non vedo nulla in quella nebbia puzzolente, solo intravedo qualche lumicino come il pollicino della fiaba. E poi in quello smog sale un masso nero, però non lo scorgo perché ci incià un po' addosso, ma dopo lo vedo grande e per giunta vociferante perché fa porca madonna! Tutto imperplessato, guardo in basso, che ne dite lettori miei? Un altro miracolo, un'altra visione, che siano ancora i correggesi, una ne fanno, cento ne pensano, accidenti a loro. Ma che visione, ma che miracolo, il sasso si alza su e diventa un autostoppista colorato, finalmente che il vapore dell'albero si è un poco diradato. Oh, scusa tanto amico mio, non t'avevo mica visto, cretino io così appallottolato, cioè scusa tanto, ma davvero mi dispiace che dormivi e non t'ho svegliato. Ma sei proprio tonto, dice l'autostoppista. Mica dormo, non vedi che giro un film? Ecco la reflex, tieni in mano. Cazzo, questo qui è un cinematografaro. Io mi sciolgo un poco, dice, faccio un film, dico, ho capito, ma così al buio. Filmava le lucine dell'autostrada più bella che c'è, questo ho capito poi più tardi nel Bettolone dove mi ha offerto un cappuccino perché io non c'ho soldi. Così parliamo e ci caliamo. Lui dice che questo è il primo film, ma poi ne farà degli altri. Tutti i film di viaggio, che qui, caro mio, nessuno sa più un cazzo, bisogna registrare le autostrade e i movimenti, ok? Ah, che due maroni quest'Italia. Io c'ho fame, amico mio, una gran fame di contrade, sentieroni, di ferrati, di binari, di laghetti, di frontiere, di autostrade, ok? Senti, amico mio, bisogna gettarsi nelle strade senza tante scene o riflettori. Bisogna cercare soltanto una frontiera e un limite da scavalcare. Bisogna gettare le nostalgie e i retro, anche i reflussi e regressioni via gli interni, i teatri, gli stabilimenti. Si dovranno invece ricercare le periferie, i ghetti, marciapiedi, viali, lampioni, cantinette, sottoscale, soffitte, sottotetti, ok? A morte, alla forca, alla ghigliottina, al patibolo, al supplizio, all'agonia, alla garotta, all'esecuzione, alla fucilazione, l'impiccagione, alle fenestrazioni, i mafiosi, i teoreti, i politologi, corsivisti, le penne d'oro, grandi firme, speculatori del grassetto, del filmetto. A morte, mistificatori, le conti, vendole, i salotti, i migliori, i gruppi, i sottogruppi, le compagnie, le quadriglie, le famiglie, a rogo, ok? Ma il cineocchio mio, amico, amerà, oh, se amerà la fauna di questi scassati e tribolati anni miei, certo che l'amerà. L'occhio caldo mio si innamorerà di tutti, dei freak, dei beatnik, degli hippie, delle lesbiche, dei sadomaso, degli autonomi, cani sciolti, froci, superchecche, filosofi, pubblicitari, renomini, poi marchette, troiette, ruffiani, spacciatori, precari, assistenti, supplenti, suicidi, anche eterosessuali, cantautori, beoni imbegliati, sballati, scannati, bucati e forati, femministe, autocoscienti, nuova psichiatria, antipsichiatria, mito e astrologia, istintivi della morte, della conoscenza, psicanalisi, semiotica, lacaniani, junghiani e profondi. E poi tutti gli abdetti di Are Krishna, di Jehovah, del Guru, del Bramino, dello Yogi, bambini di Dio, figli di Dioniso, nipotini di Marsi, legittimi di Nice, pronipoti del Marchese, figlioletti delle stelle, sorellini di Lilt, Luna Nera e fratellini di Prometo, incatenato, anche bastardini di Frankenstein, abortini di Caligari, goccioline di Nosferatu e ancora tutti quanti transessuali, perversi, differenti, situazionali, edipici, predipici, fissati, masturbatori, segaioli, corporali, biologici, macrobiotici, integrali, apocalitici, funamboli, animatori, creativi, performativi, federativi, eltristi, brigatisti, seminaristi, i fiancheggiatori, i mimi, gli istrioni, i funeri, i piagnoni, i mortiferi e i bestemmiatori, i blasfemi, i boccaloni, i graffaroni, gli esibizionisti, i masochisti, i giovani ortici, giovani Allulis, giovani Cresside, giovani Tristani, giovani Isotti, giovani Narcisi, Boccadoro, giovani Cloridani e Medeori, giovani Eureali, giovani Nisi, Romei e Giuliette, e poi nuovi Trimalcioni, nuovi Hidalgo, autori da giovani cuccioli, da scimmiotti, oppiomani, morfiomani, spogliarellisti, travestiti, traversali, macondisti, marginali, baleromani, gestisti e regomani, depressi, angosciati, nostalgici, dipendenti, studenti e figli, stupratori, viziosi e incannatori. E questi, caro mio, saranno i personaggi e le figure del nuovo cinema, il re il cinema, il veri drag cinema, ok? Io, io li filmerò, filmerò i loro amori, le lacrime, i sorrisi, le acque, gli umori, i colori e le erezioni, i mestrui, i sefidi, le croste, gli amplessi, i coiti, le inculati, i pompini, i ditalini, quindi culi, buttette e anche i cazzi filmerò. Insomma, ok? Beh, mi voglio dirgli all'amico autostoppista, non fotografarlo del drag cinema, se ti manca uno scorato, ce l'hai qui davanti, ecco, magari incominci da me, se tu ci metti la benzina, si potrebbe andare in giro insieme, visionare tutti questi amici tuoi, un po' come lo zoo sa fare, insomma, no? Dopo gli dico quando quasi viene giorno, perché gliel'abbiamo menata in lungo e in largo, come ci avrete senza altro, capito? Però io penso che con questo qui c'è proprio dell'affinità elettiva, ed è un segno del destino che l'abbia incontrato così posso proseguire il mio viaggio verso... Oh, il mio odore, l'odore, chi mi ha rubato l'odore? Lo sento mica più l'odore, aiuta i ladri, i rapinatori, sono tornati correggesi a rubarmi il mio odore. Odore, odorino mio del mare del nord, di libertà e di gioventù, ancora nella mia pancia, dai, non fare così, vieni, vieni, ti sento, odorino, ma ci stai ancora, dimmi che ci sei. Me ne giro col naso all'aria nella piazza di Sosta Adige e cerco il buono odorino che se non lo trovo al più presto mi infogno in questa puzza di italietta e muoio. Perdo la rotta e allora diventerò mai perduto con i porci scoramenti addosso. Dopo che giro per un po' in questo stato, il mio amico dice che sono ubriaco, io che non posso mica girare così col naso all'aria a fare sniff sniff, come se ci fosse la polverina. Ah, stupido che sei, nuovo amico mio, se l'avessi sentito il mio odore, se te lo fossi tenuto dentro una notte intera, che salti che fareste ritrovarli? Correresti dietro come me, anche coi piedi e basta, odorino mio, salta fuori. E invece, invece quello che salta fuori è un ruttazzo, ma un ruttazzo che sembra tremino le montagne, arrivi il terremoto, così che la gente salta fuori dal banco del ristoro e viene nella piazzola in mezzo ai rifiuti e ai piedi del mio amico che filma da per terra, così fa il replay del porca madonna. E dopo il rutto, prima viene sulla gola un gran magone d'aria che la gente fa, di spavento, si tappa le orecchie, però lui non esce, ridiscende nel basso pancia, e la gente fa, come dire, meno male che gli è sceso. E dopo invece il gran bordello, perché il mio stomaco si mette a far pulito, getta tutto fuori lo sporco che ha, vomito, 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 che vomitata. La gente di nuovo fuori sulla piazzetta in mezzo agli sporchi della mia pancia, i puzi, i rumoracci, dei ventoni, un digi, sciupada, la terza guerra mondiale, i gas atomici e tutto il resto, pensa alla gente, perché c'è tutto un flusso bagnato che salta fuori dalla bocca e io sto lì piegato con la bocca spalancata e vedo venire fuori di corsa ogni cosa dalla mia pancia, tanto che penso mi venga fuori lì tutto, anche le gambe, le braccia, poi mi rivolto come un guanto e non finisce mai lo sbocco, sopra i piedi viene a cominciare con un fiumiciatto che va per attraverso la piazzetta, svolta dietro i pini e giù, puff, nell'adige, tutto fuori, sputa, sputa, stomaco mio, sputa via gli scoramenti, fuori i porci indemoniati, avanti, getta che poi guarisci e difatti poi comincio a ridere, a fare il giullaretto perché non mi sento più gli scoramenti addosso, sto benone che guardo il mattino che viene su e dico toh, la notte ha di già voltato il culo, toh che bello, però sono stanco, stanco morto, contento, fiacco, l'amico mio viene lì vicino a me che guardo il bel mattino che alza il culo e dice caro mio io parto, vuoi che andiamo? Magari, magari michetto mio tutto biondo e lentigginoso come sei, magari ci tenessimo i soldi per fare il pieno arronzinante alla faccia dei petrolieri speculatori di questo porco mondo, non ho grano, cosa fare? Dice lui non preoccuparti andiamo in autostop, cosa? Lasciamo? Lasciare lì la 500 cavalli, lasciarla lì arrugginirsi tutta sola quando io lo so bene che anche lei ci piacerebbe mangiare l'asfalto e polveroni dietro al mio odorino, no 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 no, io di qui non mi muovo senza lei, e allora? Beh, ciao, salutato l'amichetto tutto biondo, imbarcato su un altro grand'albero di Natale verso Trento, salutato col magone nella voce e gorgoglio di pancia, era pur sempre un compagno di strada, ciao biondo cinematografaro, salute a te che te ne vai per le città, ciao ciao vero compagno di quelli veri che ci hanno capito tutto della nostra storia quotidiana, davvero, ciao, con la lacrimuccia e fazzoletto e col pettino di clacson del ronzinante, non ci vedremo mai più, questo lo so, ma terrò per sempre in giro per le strade un amico in più, vai, vai, è stato bello, ognuno ha il percorso suo. Così di nuovo mi ritrovo in solitudine con l'ordino sempre vivo che se lo perdo, il racconto finisce a questa riga qua, ma il problema è trovare grano, magari un portafoglio pieno di un deca, ah questa sì che sarebbe una fortuna rotta in cula, mica prendere un treno in orario, un portafoglio che dice ciao in mezzo alla piazzola, sono qua, prendimi, sono tuo, miracolo, è davvero un portapila fortuna sculata, volete vedere che sto vuoto? Niente male, recuperate 20 carte, faccio il pieno, ronzinante mio, si riparte, corriamo dietro il nostro odore, proprio una fortuna sfacciata, ma quando uno ci sente l'odore che serra in pancia è proprio il suo che arriva e anche la fortuna arriva, solo questo, solo questo vi voglio dire, credete amici miei lettori, bando e isterismi, depressione, scoglionature, smaronamenti, cercatevi il vostro odore e poi saranno fortune e buoni fulmini sulla strada, non ha importanza alcuna se sarà di sabbia, del deserto o di montagne rocciose, fosse anche quello dell'incenso giù dell'India o quello un po' più forte tibetano-nepalese, no, sarà pure l'odore dell'arcobaleno e del pentolino pieno di odori, degli aquiloni bimbi miei, degli aquiloni, degli uccelletti, dei boschi verdi con in mezzo ruscelletti gay e cinguettanti, delle giungle, sarà l'odore delle paludi, dei canneti, dei venti sui ghiacciai, saranno gli odori delle bettole di Marrakesh o delle fumerie di Istanbul. Buoni, davvero buoni odori in verità, ma saranno pur sempre i vostri odori. E allora via, andate alla faccia di tutti avanti, col naso in aria, fiutate il vento, strapazzate le nubi all'orizzonte, forza, è ora di partire, forza, tutti assieme, incontro all'avventura. Grazie mille, grazie mille a Bebo, grazie a tutti voi e adesso vi lasciamo con un'ultima pagina, un'ultima pagina di Camere Separate e vi ricordiamo che terremo una nuova passeggiata d'autore qui a Bologna, il domani, prima di tutto, domani saremo a Reggio Emilia, se qualcuno sarà in zona e ne vuole ancora di Pier Vittorio Tondelli, domani mattina saremo a Reggio, ma il 5 marzo, giorno del centesimo anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini, saremo di nuovo qui a Bologna con la stessa formula, due ore di passeggiata, inframezzata da letture per la città e un'ora finale, in questo caso l'evento finale non si terrà in sala borsa, si terrà all'archiginnasio e in particolare allo Stabat Mater. Un'ultima pagina prima di salutarci e dicevamo che si ha la certezza che un autore è un autore fertile quando lo leggono persone che non hanno potuto vedere i suoi libri uscire in diretta in libreria ma li hanno scoperti più tardi. Se c'è qui qualcuno classe 2003 verso il mese di novembre, magari è il segno dello scorpione e vuole dividere con me la lettura di quest'ultima pagina, ringrazio in anticipo. È arrivato a una età in cui gli appare legittimo trarre dei bilanci, con l'amore ci ha provato e ha perso. Ora sa che lui non è fatto per amare una persona, non è fatto per il sesso, né per vivere insieme a un altro uomo. Lui si sente in pace solo nella sua solitudine, accudito dagli amici più cari. Quello che sta facendo è il tentativo di formarsi una famiglia, una strana famiglia senza donne né figli, ma i cui vincoli fra i componenti siano altrettanto forti e consapevoli. Rodolfo, Eugenio, Michael sono oggi la sua famiglia. D'altra parte quale bestiale coercizione spinge gli uomini a cercarsi, affannosamente, brutalmente, per rapinarsi e ferirsi a vicenda. Quale catastrofe iniziale ha permesso che l'eros divenisse rintracciabile solo nell'ossessione della genitalità e non invece nel rispetto delle reciproche posizioni d'amore? Quante amicizie Leo ha visto finire brutalmente con dolore perché uno dei due non concedeva il proprio corpo all'altro? Confinare la sessualità entro i dovuti limiti, circoscriverla, non è forse attribuirle il suo naturale rilievo? Tutti accusano Leo di non fare l'amore. E il primo ad accusarsi, tempo fa, è stato proprio lui. Da quando poi si sa che non fa l'amore con nessuno, il suo peso sociale si è affievolito fino a scomparire. Finché si presentava in discoteca o ai party in compagnia di bei ragazzi, attorniato dalla sua corte, era considerato un uomo di successo, rispettato e apprezzato. Ora che è solo, ora che continua a frequentare i club per rimanere in un angolo a sorseggiare una birra e ascoltare nel buio la musica trapassargli le orecchie? È solamente uno straccio, un reietto. Ma Leo pensa che è ora di finirla con l'ossessione di essere simile agli altri, smetterla di credere che la normalità sia non lasciar perdere alcuna occasione, ficcarsi a letto con chiunque lo proponga. Tutti dicono di amare, ma Leo pensa che chi ama veramente gli uomini e il mondo intero, gli alberi, i fiumi e gli animali, quell'unico uomo è l'eremita e lui, a suo modo, è un monaco. In Thomas Leo ha amato un suo simile, ha potuto farlo perché ha imparato a soffrire e a donare, ma non è detto che il miracolo si ripeta. Parlando con Eugenio è sempre più consapevole che non ci sarà un'altra volta, proprio perché quello che ora cerca non è un compagno, ma un suo nuovo posto nel mondo. Mantiene la sua capacità di amare, investendola non più su un'altra persona, ma su ciò che caratterizza la specie alla quale appartiene. Ora è in grado di fare questo senza peccare né di idealismo né di fanatismo, perché porta ormai la traccia inestinguibile dell'amore di due persone, Thomas e Leo, che sono esistite e la cui presenza lui culla teneramente nel profondo del cuore. Un tempo, quando riteneva la sua relazione d'amore sterile e senza frutto, si sbagliava. Leo e Thomas hanno partorito con dolore, almeno un figlio. E questo figlio, espulso nel mondo, che pensa e agisce, è oggi il 33enne Leo. Grazie Chloe, grazie Bebo, Sara, Elena, Nicolò, Andrea e soprattutto grazie a voi tutti per essere venuti qui. Siamo passati in una delle tappe del nostro giro, dalla statua di un amico ben noto a Pier Vittorio Tondelli alla sua epoca e ben noto anche a noi, Roberto Fricantoni. È bello sapere che si scrive, si canta, si disegna dentro un mondo incoraggiandosi a vicenda e spronandosi a vicenda. In questo senso vorremmo dedicare queste letture anche a tutti quelli che sono stati i cittadini della Repubblica di ragazzi in cui Pier Vittorio Tondelli si è mosso, penso a Roberto Fricantoni, penso a Andrea Pazienza e penso a tutti quelli che hanno creato o semplicemente, si fa per dire semplicemente, mandato avanti la loro vita, hanno vissuto e hanno mandato vivendo avanti la vita di tutti e gli altri rendendola un po' migliore. Grazie mille e buona serata.